In collaborazione con Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Feralpi Salò News e che coppia d'assi che abbiamo nei nostri studi quest'oggi perché sono tornati a trovarci Lodi e Piovani che in qualche modo possiamo dire sono il settore giovanile della Feralpi Salò Benvenuti ad entrambi, bentornati Ciao Gian Piero Allora Feralpi Salò che è reduce da un risultato non esaltante però insomma siamo ormai verso la fine di un campionato che comunque va considerato importante per quanto concerne la prima squadra dunque ci sono ancora una serie di impegni da rispettare mentre non sta di certo con le mani in mano il settore giovanile della Feralpi Salò che proprio recentemente ha anche inaugurato una nuova scuola calcio e poi parleremo anche di questo a testimonianza della vivacità del movimento, della voglia di crescere che contraddistingue ormai da qualche tempo a questa parte la Feralpi Salò che non si fa mancare niente ma andiamo con ordine vediamo insieme quali sono stati i risultati di quest'ultimo turno del campionato di Lega Pro per provare a capire che cosa potrà accadere da qui al termine del campionato innanzitutto come già sapete c'è questo pareggio con l'Alessandria 0-0 il risultato finale l'ennesimo pareggio di questa fase della stagione però io continuo a dirlo non si può guardare al presente senza ricordarsi di quello che è stato il passato di quello che è stato fino ad oggi un campionato davvero straordinario per quanto riguarda gli altri risultati la vittoria fuori casa del Mantova pareggiano Venezia e Pavia molti pareggi a contrassegnare io credo di poter dire quello che è l'equilibrio in questa fase finale della stagione pareggia anche la Pro Patria con il Renate poi ancora da segnalare il pareggio dell'Arezzo chiedo scusa con il Como mi ero un po' perso insomma andiamo a vedere però questa benedetta classifica per cercare di capire quello che potrà accadere da qui alla fine del campionato allora Feralpi Salò che ha quota 50 punti in assoluta tranquillità là davanti l'impressione che se la giocheranno fino alla fine in questo rush finale davvero impegnativo Bassano e Pavia con il Bassano che si fa preferire soprattutto per il fatto che in questo momento ha tre punti di vantaggio no Piovani? oltre ad essere una buona squadra sì il Bassano è un'ottima squadra diciamo che questo campionato è molto equilibrato anche perché tutti stanno lottando per un qualcosa le prime tre davanti stanno lottando per le prime tre o quattro stanno lottando per andare in Serie B direttamente certo noi come Feralpi Rial Vicenza Arezzo così si lotta per mantenere il sesto posto per la Team Cup del prossimo anno ovviamente che è comunque un bello obiettivo e gli altri dietro per salvarsi perché poi alla fine è un campionato molto equilibrato ti dispiace vedere il Lumezzane lì in fondo? ce la farà secondo te? speriamo così abbiamo un altro derby l'anno prossimo se va avanti così l'odi di derby ne facciamo tre perché ahimè purtroppo il Brescia è sul fondo della classifica un Brescia che rischia evidentemente la retrocessione in Lega Pro anche se poi adesso qualcuno comincia a parlare di ripescaggio insomma situazioni tutte da verificare di certo sarebbe un campionato dove il dialetto bresciano regnerebbe sovrano Lumezzane se riesce a salvarsi per Alpi Salò e Brescia pensa un po' se non altro risparmiamo sui costi delle trasferte è così? quello sì è una mara battuta ma io da Bresciano e da tifoso Bresciano mi auguro insomma che si riesca ad ottenere la salvezza anche se capisco e comprendo che si sta facendo sempre più dura soprattutto con la sconfitta di domenica di sabato la situazione è diventata veramente difficile 18 punti di disposizione 9 punti di svantaggio insomma i numeri sono inclementi se così si può dire dovrebbe cambiare completamente media devi fare 6 vittorie se fai 6 vittorie poi devi comunque sperare che davanti rallentino perché se fanno 9 punti sei ancora punta da capo Piovani è durissima sì il calendario non è facilissimo no oltretutto perché incontra solo squadre ti mette tristezza un po' tu che hai vestito la casacca bianca azzurra io sono cresciuto in questo settore giovanile quindi logicamente dispiace perché vedere in questa situazione quelli quando giocavo erano veramente bei tempi ecco non dirlo a me anche perché eravamo tutti e due un po' più giovani vediamo invece torniamo per meglio dire alla Feralpi facciamo una cosa vediamo i riflessi filmati di questa sfida e di questo pareggio non bisogna dimenticare che l'avversario era comunque un avversario molto motivato perché qualcuno storce la bocca per questa serie di pareggi però francamente hanno giocato con una squadra che aveva ancora fortissime motivazioni no Pio? come dicevo prima abbiamo incontrato tutte le squadre con motivazioni altissime più delle nostre sicuramente chi gioca per vincere chi gioca per salvarsi quindi è difficilissimo da qui alla fine sarà difficile fare punti andiamo a vedere i riflessi filmati di questa sfida con il contributo della nostra redazione il servizio di Fabio Pettero con le unghie con i denti e con tanto coraggio la Feralpis lo torna a fare punti in campionato frenando la corsa dell'Alessandria terza in classifica e con pagine chiamata a recitare un ruolo da protagonista ai playoff promozione sulla ruota dell'ino turina esce nuovamente lo 0-0 come i gol segnati da una parte e dall'altra per un punto che questa volta viene accolto con favore da dirigente staff tecnico un punto che fa classifica e porta ai leoni del Garda alla fatidica quota di 50 in campionato un pareggio che ha messo in luce lo straordinario carattere della squadra guidata da Beppe Escenza rimane l'astinenza da gol segnati per i gardesani anche se per la verità uno i verde e blu vestiti lo mettono a segno Corrano e Luce all'undicesimo del primo tempo ma la posizione del difensore goleador è ritenuta offside per il direttore di gara scampato il pericolo l'Alessandria spinge forte sull'acceleratore a fine primo tempo e ad inizio ripresa ci vuole tutta la qualità di Branduani per evitare la capitolazione il portiere si esalta su Marconi prima e Morero poi ed è sempre Branduani migliore in campo a negare la gioia del gol ancora a Marconi e successivamente ad Antimo Junco la grande occasione per la vittoria per i padroni di casa capita sui piedi del neo entrato Zamparo splendidamente lanciato da Romero ma Nordi chiude la porta in faccia all'attaccante di Beppe Escenza finisce così con un punto sudato e guadagnato ma la Feral Pissalò ha dimostrato ancora una volta di avere gran cuore torniamo in studio restano i dubbi sul gol annullato alla Feralpi purtroppo le immagini non chiariscono se al momento del cross quando cioè va valutata la posizione del giocatore lo stesso non è luce in posizione regolare oppure no aveva fatto comunque un gran gol insomma sì è una sua prerogativa quella degli inserimenti sul gioco da fermo il colpo di testa è una sua prerogativa fammi un pronostico alla fine chi va in Serie B tra le pretendenti alla promozione che stanno là in alto beh facile dire il Bassano in questo momento perché ha tre punti di vantaggio sulla seconda e poi sta giocando molto bene e credo che l'Alessandria abbia abbia presupposti e l'organico per poter puntare direttamente ce la può ancora fare nonostante adesso ci stacco insomma Giovanni sì sono d'accordo io non dimenticherei anche il Pavia che secondo me è la squadra quella di Maspero che gioca un bel calcio e anche in squadra giocatori importanti uno su tutti Soncin che ha sempre fatto che ha giocato in ben altre categorie Piovanni il fatto che l'anno prossimo in qualche modo c'è il virgolette rischio che in Lega Pro ci siano Brescia Feralpi Luenzane per il lavoro del settore giovanile può essere un'ulteriore difficoltà o è un vantaggio in questo senso fino a ieri il Brescia è sempre stato visto come evidentemente la squadra guida nel momento in cui dovesse noi ci auguriamo che non sia così ovviamente però nel momento in cui dovesse retrocedere questo servirebbe a far diminuire il gap tra Feralpi Salò e Brescia oppure Brescia al di là di tutto resta sempre il punto di riferimento calcistico della provincia Hai la domanda di riserva? No scherzo noi pensiamo solo a noi pensiamo solo al nostro articello cercare sempre di fare le cose fatte bene con equilibrio e cercare di portare da noi prima di tutto che siano persone vere ragazzi intelligenti e poi guardiamo l'aspetto calcistico logicamente noi siamo qua per fare calcio e dobbiamo guardare quello nel nostro piccolo adesso stiamo facendo veramente bene abbiamo scritto una bella poesia ci manca solo la linea finale dobbiamo cercare di far bene quella anche perché i risultati delle squadre del settore giovanile della Feralpi Salò sono sotto gli occhi di tutti stanno facendo tutti veramente molto bene non c'è soltanto la crescita dei giovani che è il fondamento sul quale si deve costruire un settore giovanile ma c'è anche il fatto che arrivano anche risultati nei vari campionati ritengo che sia la logica conseguenza quella quindi come si suol dire il lavoro paga crediamo molto nella crescita valoriale dei nostri ragazzi da un punto di vista educativo e quindi credo che una volta capito quali sono gli obiettivi principi fondamentali della Feralpi Salò poi i risultati siano la logica conseguenza allora facciamo una pausa e poi riprendiamo il discorso e proviamo ad approfondire anche il discorso relativamente al settore giovanile tante iniziative abbiamo parlato all'inaugurazione di questa nuova scuola calcio insomma restate con noi a tra poco di nuovo insieme con Feralpi Salò News con Piovani e Lodio ovvero settore giovanile della Feralpi Salò mentre osservavamo gli spot pubblicitari stavamo facendo anche il punto in effetti poi dicevo prima i risultati delle squadre del settore giovanile sono esaltanti tre squadre su quattro i playoff dicevi no Pio sì quattro squadre Beretti primi allievi con la possibilità di arrivare a secondi nell'ultima giornata di campionato i 2000 una metà classifica e i 2001 che non ci sono i playoff però siamo terzi quindi insomma primo, secondo e terzo quindi da sei anni solo che siamo noi professionisti sono risultati eccezionali sì per noi è una bella soddisfazione ecco anche perché abbiamo lavorato sui nostri ragazzi inserendo per ogni squadra due o tre elementi però ragazzi che fino a due o tre anni fa qualcuno anche l'anno scorso facevano i provinciali quindi è bella soddisfazione l'odi questo significa anche che c'è compattezza di gruppo no? allenatori e dirigenti tutti verso un'unica meta bisogna fare i complimenti a Piovani che hanno fatto anche le scelte vincente sì è stata una grande selezione nella ricerca del nostro personale interno perché come diciamo noi essendo lo strumento attuativo per realizzare i nostri principi la nostra filosofia la nostra linea guida grande rilevanza è stata riposta nella scelta del personale quindi noi credevamo tanto negli uomini scelti a loro volta sono stati molto bravi nella scelta dello staff che li ha affiancati e ripeto non dico che fosse scontato il risultato ma questo era l'obiettivo che volevamo raggiungere attraverso gli uomini riuscire ad arrivare poi agli risultati sportivi abbiamo parlato dell'inaugurazione di questa scuola calcio allora ne abbiamo parlato anche nei nostri notiziari e quindi andiamo a vedere come vi abbiamo raccontato di questa nuova iniziativa sempre grazie al contributo della nostra redazione al servizio che aveva preparato nei giorni scorsi per i nostri notiziari Fabio Petteno che aveva anche intervistato ovviamente Piovani ma andiamo a vedere il servizio La grande famiglia della Feralpi Salò si arricchisce di una nuova scuola calcio una scuola calcio che va a toccare anche quello che è un punto importante come la città di Brescia Nel nostro progetto di crescita effettivamente abbiamo cercato di dare una valida alternativa a tutto il nostro movimento e piazzando una sede importante per la scuola calcio proprio qua su Brescia E questo è un segnale importante quello che volete lanciare cioè della volontà della vostra società della Feralpi Salò di continuare ad arricchire il proprio bagaglio di esperienza ma soprattutto a livello territoriale? Sì sicuramente quest'anno abbiamo iniziato con una serie di affiliazioni che hanno allargato già il nostro bacino su Brescia ormai siamo già da diversi anni con il settore giovanile ci mancava appunto un punto d'appoggio per la scuola calcio dall'anno prossimo interveniamo anche su quello sicuramente è un bacino di larghe vedute nel senso che un po' tutti c'è talmente tanti ragazzi che troveranno una valida alternativa con un nostro progetto serio che cercheremo di fare al meglio Gian Pietro Piovani responsabile del settore giovanile credo che sia un orgoglio essere qui quest'oggi a lanciare una nuova grande iniziativa della Feral Pissalò che arricchisce il proprio bacino d'utenza per quanto riguarda la scuola calcio sì hai detto bene te siamo molto contenti nel nostro progetto stilato da io e Pietro Lodi c'era questo questa apertura della scuola calcio appoggiati dalla società siamo riusciti nel nostro intento e abbiamo allargato come hai detto te il nostro bacino e cercheremo anche in futuro di allargarci sempre di più logicamente questo è un passo importante arriviamo in città anche con i bambini piccoli e questo come ti ho detto prima era per noi motivo di soddisfazione per la crescita loro allora ci vuoi spiegare Pietro il significato di questo progetto che qui abbiamo visto al momento della sua presentazione di qualche giorno fa con in prima fila anche il nostro Piovani per noi era uno degli obiettivi primari riuscire a realizzare la scuola calcio a Brescia ci dà modo di insediarci nella città e principalmente come diceva il direttore prima di allargare il nostro bacino d'utenza questo era un aspetto fondamentale in primis logicamente per alzare la qualità dei nostri ragazzi e in secondo luogo per riuscire a costruire e quindi diffondere il nostro metodo di lavoro e la nostra filosofia e il nostro pensiero tipico della Ferralpi Salò non dimentichiamoci che la Ferralpi Salò è l'unica società professionistica di calcio in Italia a potersi freggiare del titolo di scuola calcio qualificata essere una scuola calcio qualificata vuol dire avere grande attenzione nella scelta del personale come dicevo prima noi abbiamo istruttori qualificati quindi tutti i ragazzi laureati in scienze motorie abbiamo allenatori con patentino da allenatore logicamente fisioterapisti con master di Coverciano vuol dire essere una società attenta ad impartire ed ed educare i propri ragazzi cercando di trasmettere loro l'importanza dell'aspetto educativo quindi la lealtà la correttezza rispetto delle regole il fair play la solidarietà vuol dire essere una società attenta da un punto di vista sociale non solo attenta ma anche partecipe e attiva da un punto di vista sociale noi abbiamo una collaborazione con la questura di Brescia sulla lotta contro il cyberbullismo entriamo nelle scuole per diffondere l'importanza dello sport con un progetto molto bello che è in piena attuazione omaggiando tutte le scuole che hanno aderito a questo progetto di un libro scritto dalla Ferrapi Salò in collaborazione con altre associazioni sportive per non parlare di calcio ma per parlare dello strumento sport che è uno strumento fondamentale da un punto di vista educativo e dobbiamo ringraziare in primis tutta la società e anche tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione di questo progetto da sicuramente il presidente in prima persona la vicepresidente Giovanni Goffi e Alessandro Franzoni il direttore Marco Leali la dottoressa Manfredi cioè tutti coloro che hanno collaborato questa è la forza della Ferrapi cioè riuscire a portare avanti un progetto per poi svilupparlo ed elaborarlo in equipe ma come dire da un certo punto di vista volete fare concorrenza a Brescia? no non dobbiamo mai viverla da un punto di vista concorrenziale cioè quello che a noi interessa è ripeto come diceva giustamente Piovani non dimentichiamoci che noi facciamo calcio quindi la possibilità di poter lavorare sui nostri ragazzi sin dalle fasce più basse per noi era indispensabile e quindi questo volevamo e questo siamo riusciti e riusciremo a fare in passato più volte si è parlato della come dire senza nulla togliere chi c'era prima ovviamente però è un dato di fatto di una scarsa collaborazione che è sempre esistita sul territorio tra quella che era la squadra principale della provincia cioè il Brescia Calcio e le cosiddette tra virgolette squadre minori diversi anni fa si parlava di Lumezzane soprattutto di Lumezzane tant'è che da Lumezzane sono passati fior di giocatori ma nessuno di questi è mai approdato al Brescia e poi questo discorso si è allargato nel momento in cui la Feralpi è cresciuta di parecchio anche fino ad affacciarsi al calcio professionistico da questo punto di vista Pietro Lodi non c'è la possibilità visto che sono cambiate anche molte cose all'interno del Brescia Calcio di ridiscutere questo rapporto col Brescia visto che c'è una nuova società magari partendo dal presupposto che non esiste un re e un vassallo ma che si può magari trattare come dire su condizioni diciamo di parità non c'è mai stata nessuna preclusione anzi noi abbiamo buonissimi rapporti con il Brescia Calcio e abbiamo dei ragazzi che arrivano dal Brescia Calcio e sono da noi quindi è una collaborazione che dal nostro punto di vista c'è sempre stata poi ripeto non si deve parlare né di concorrenza né di rivalità quando il bene è il ragazzo cioè quando stiamo parlando di passatemi il termine materiale talmente sensibile come sono quelli appunto dalle fasce dai sei anni in poi quindi assolutamente per noi la priorità è veramente l'educazione e far crescere i ragazzi in un ambiente sano leale e corretto questo è il nostro intento e da qui vogliamo partire Giovanni torniamo ai risultati del campo prima dicevo che vanno fatti i complimenti a Giovanni perché insieme evidentemente all'Odi e gli altri dirigenti da Olli fino al Presidente avete scelto persone che hanno confermato di poter dare molto alla Feralpi è così i risultati sono sotto gli occhi di tutti da Aimo Diana che sta facendo benissimo a Zenoni insomma tutti i tecnici che hai scelto si stanno comportando benissimo questo è il motivo credo di grande soddisfazione no? sì enorme soddisfazione anche perché a volte abbiamo scelto le persone giuste anche perché ci metti la faccia come si dice è chiaro dopo dobbiamo andare a rendere conto la società giustamente quindi diciamo che sotto questo punto di vista siamo veramente felici come siamo felici di aver scelto dei ragazzi come ho detto prima prima persone dopo i giocatori questo come ha detto Pietro posso aggiungere una cosa l'impressione visto che spesso appunto i vostri collaboratori coloro che lavorano per il settore giovanile sono nostri ospiti quello che li accomuna oltre ad una altissima professionalità mi sembra di poter dire che è l'entusiasmo e la condivisione di un progetto cioè quando parli con loro capisci che hanno sposato quello che sono le linee guida della società e questo credo che sia fondamentale allora l'entusiasmo e le motivazioni sono la base di tutto perché se non hai quelle è inutile partire quindi noi abbiamo grandi motivazioni io non mi vedo al di fuori del calcio quindi sono partito dal giocatore adesso sto facendo questo l'albergatore non lo vuole fare insomma con grande entusiasmo e soprattutto con motivazioni altissime e queste cerchiamo di trasmetterle anche ai nostri allenatori e soprattutto ai nostri ragazzi bene il tempo a nostra disposizione finisce qui e quindi non mi resta che rinnovare l'imbocca al lupo alla Feralpi Salò per questa fase finale del campionato ma soprattutto al settore giovanile che vive momenti come abbiamo visto importanti sia sotto il profilo organizzativo nasce una nuova scuola calcio l'abbiamo vista in città che è gestita in qualche modo dalla Feralpi Salò sottolegida per meglio dire della Feralpi Salò ma soprattutto si avvicinano anche le finali dei campionati e allora in bocca al lupo a tutte le squadre del settore giovanile della Feralpi Salò grazie a Lodi e Piovani e a voi tutti per averci seguito buona giornata in collaborazione con la Feralpi Salò e a voi tutti Grazie a tutti.